Sea kayaking lungo la riviera del Conero. Day 11, undicesima giornata. Pronti per la partenza dell'ultimo giro in kayak dell'estate. 2 settembre 2024. Riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60fps Hyperview. E sono sempre sul mio Evolution 2.0 in Carbon Kevlar Vacuum System Infusion della Nautica Manino. Con la mia nuova pagaia Greenland, la Kallec della Gear Lab Outdoors versione Rebel da 230 centimetri, 730 grammi di peso, in carbonio ovviamente. Ecco i cormorani. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Instagram, dove trovate foto e reel. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. E intanto un veloce video selfie per vedere la spiaggia del frate e la sua scogliera da tutte le prospettive. Et voilà! Siamo già arrivati alla Grotta dei Lavi. Sempre suggestiva l'inquadratura da dentro. Et voilà! Altro balzo in avanti e siamo a San Michele. Cambiamo la prospettiva dell'inquadratura in modo da valorizzare di più le trasparenze del fondale. Questa folla che c'è oggi! Questa folla che c'è oggi! Questa è un' Ovara. La piccola è un' Andrea, come a darmi con alcune e ha un'altra parte. Questa è un'altra parte. E la piccola è un'altra parte. È un'altra parte. Questa è una parte. Vedi. Ci sarà un'altra parte. È un'altra parte veramente che percorso. Non c'è un'altra parte. Questa è un'altra parte. Sembrava che è un'altra parte. E siamo quasi alla fine di San Michele e laggiù gli scogli che determinano l'inizio dei sassi neri. Grazie a tutti. 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 C'è qualcuno da salvare. Sembra presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.